Ok, buon suar, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora, nei giorni scorsi, due o tre giorni fa, non mi ricordo quando, vi ho pubblicato nel gruppo un ad, un esempio di un ad, di una campagna, una pubblicità fatta da una cantina su Facebook, no? E vi ho chiesto di commentare quelli che secondo voi sono gli errori che può aver commesso questa cantina in questa, in questa campagna su Facebook. Ecco, allora, faccio questa diretta per spiegare quelli che secondo me sono gli errori che hanno commesso e soprattutto i miglioramenti che potrebbero fare per ottenere molto di più, soprattutto non sprecare i budget che, come immaginerete, viene in questo modo un po' sprecato e Mark Zuckerberg non ha sicuramente bisogno di ulteriori dollaroni, quindi è importante sempre andare a ottimizzare, migliorare il più possibile le campagne. Prima di questo, volevo ricordarvi che, prima di iniziare, volevo ricordarvi che questa diretta la potete rivedere, se non la vedete in diretta potete rivederla nel gruppo, ma anche all'interno di questo link qua, che vi ho messo anche qui sopra, qui sotto da qualche parte, trovate il link proprio cliccabile, in modo che così potete andare direttamente a rivederla, insieme anche ad altre dirette che abbiamo fatto in questi mesi. Lasciando la mail in questo link potete entrare nella raccolta di tutte le altre dirette, c'è una marea di contenuti gratuiti, vi consiglio quindi di entrare, e soprattutto ricevete anche una nuova cosa che partirà questa sera, che è un'email settimanale, è un'email settimanale che parte il lunedì sera, dove raccolgo, raccogliamo tutti i contenuti, i post più importanti e con più valore che vengono inseriti all'interno del gruppo Facebook, i segreti del web per le attività locali, per chi non ne fa parte, che magari vede questa diretta anche su altre piattaforme, vi invito ad entrare, è gratuito. In questa mail del lunedì andiamo a inserire tutti gli aggiornamenti, non solo nostri, ma anche dei membri del gruppo, che sempre più spesso danno degli spunti veramente molto interessanti. Ok, altra cosa, vi chiedo gentilmente di invitare altre persone all'interno del gruppo, vogliamo farlo crescere, adesso siamo a 1400 e qualcosa persone, quindi siamo tanti, ma mai abbastanza, perché insomma, per noi fare continuamente contenuti, video, post, è una cosa impegnativa, perché potete immaginare quanto tempo dobbiamo dedicare io, Silvia, ad altre persone, quindi il tempo che dedichiamo è tanto, però vediamo che quello che facciamo è utile, perché tante attività stanno crescendo, stanno migliorando, vediamo veramente dei forti miglioramenti e riceviamo anche dei feedback importanti, quindi ci teniamo a essere utili, soprattutto in questo periodo. Il favore che vi chiedo, dato che è tutto gratis quello che stiamo facendo, è di invitare altre attività all'interno del gruppo. Potete farlo in due nanosecondi, perché basta cliccare... andare, diciamo, nella home page del gruppo, quindi cliccate, probabilmente adesso lo vedete qui in alto a destra, vedete il nome Paolo Dallago, i segreti dal web per le attività locali, cliccate lì, così entrate nella home page, tra virgolette, del gruppo, e lì c'è un bottone invita. Ok? Anzi, facciamo così, ve lo mostro direttamente. Ok, andate qui, cliccate su questo bottone verde qui, invita, e vi si apre la lista di tutti i vostri amici, e potete cliccare sul bottoncino a fianco, invita, invita, invita. Quindi è una cosa facilissima da fare. Mi raccomando, invitate solo titolari o collaboratori di attività, di negozi o imprese locali, non invitate gente a casa, insomma, perché non sarebbe utile né per loro né per voi. Bene, detto questo, andiamo a analizzare la campagna di questa cantina che vi dicevo. Vedo che la cosa, insomma, vi ha interessato, ci sono stati parecchi commenti su questo, tra virgolette, esercizio che vi ho proposto, quindi se vi piacciono queste cose, fatemi sapere magari anche nei commenti, così posso proporvi altri esercizi di questo tipo, dato che di campagne orribili su Facebook è pieno, e quindi c'è veramente tanto spunto, tante cose da cui imparare, da cui prendere spunto, ok? Allora, la campagna è questa. Vedo se riesco ad ingrandire, in modo che si veda di più. Ok, ingrandiamo così. Allora, come vedete, come vedete, questa appunto è una campagna che mi sono trovato nel mio newsfeed. Sapete che ognuno di noi vede delle campagne che più o meno sono, che l'algoritmo di Facebook pensa possano interessare, no? Possano interessare a me, oppure che chi ha impostato la campagna pensa possano interessare. Il vino a me piace, insomma, non sono inesperto, però mi piace bene il buon vino, quindi il target lo hanno imbroccato, diciamo. Però c'è, c'è un però, c'è molto, c'è molto da fare su questa campagna, ok? Questa è la classica campagna che io sconsiglio sempre di fare, quindi questi ragazzi della cantina, va bene, non facciamo nomi anche se si vede, però insomma, ecco, questo non è un post per denigrarli, non è un video per denigrare questa cantina, per dire che sono incapaci, anzi, magari glielo girerò, magari gli può essere anche utile. E' solo un modo per, diciamo, farvi ragionare, farvi capire quali sono i giusti, magari approcci a questo tipo di attività, dato che molti di voi, ho visto, hanno dato interesse per iniziare a fare delle campagne su Facebook, su Instagram, sui social, quindi è importante anche andare a vedere quelli che sono gli errori più classici, più diffusi che vengono fatti da tante attività. Adesso non so se questa campagna ci è stata fatta direttamente da qualcuno di questa cantina o da qualche agenzia, però poco conta. Allora, partendo, i presupposti sono questi, questa ad me la sono vista io, il presupposto importante che io avevo scritto nel post in cui vi ho chiesto di commentare questa campagna è io di questa cantina non ho mai sentito nominare, non l'ho mai sentita, non so chi siano, è la prima volta che vedo questo nome, ok? E questa è una cosa molto, molto importante, ve l'ho scritta perché è una cosa molto, molto importante, perché diverso sarebbe il fatto se io conoscessi già questa cantina, fossi già il loro cliente, avessi magari anche già visto il sito, fossi andato nei loro negozi, o cose di questo tipo, ok? E queste sono tutte cose che Facebook ci dà la possibilità di fare, quindi io posso far vedere la mia pubblicità a chi ha visto il mio sito, a chi ha già interagito con la mia pagina Facebook, a chi è stato nel mio negozio, ok? Quindi, far vedere una pubblicità a chi già ci conosce versus farla vedere a chi non ha mai sentito parlare di noi fa una differenza madornale, ok? C'è una differenza e lo vedete anche poi nei risultati, fa una differenza impressionante questa cosa. Intanto, scrivete pure nei commenti se vi vengono domande, vedo che c'è già qualcuno collegato, se ci sono domande, dubbi o cose, scrivete nei commenti che poi commentiamo insieme. Quindi ecco, questo è il presupposto, io non ho mai sentito parlare di questa azienda e qualcuno di voi nei commenti ci è andato vicino a questa cosa. Ed è questo l'errore più grosso che ha fatto questa attività. Non è il, come molti di voi hanno scritto, non è chiaro qual è lo sconto o qualcuno ha scritto sono sette bottiglie e non sei, che questo è anche paradossale, ma è un piccolo errore anche questo o altre cose di questo tipo. C'è proprio un errore di massima, un errore molto più grande che questi hanno fatto, cioè stanno sparando completamente a caso. Ok? Quindi stanno bombardando persone sconosciute dicendogli compra, compra, promozione, sconti, sconti. che è la cosa che io sconsiglio sempre di fare. Bisogna sempre partire dal concetto che tu cantina vinicola stai cercando di vendere vino a delle persone che sono su Facebook principalmente per cazzeggiare e farsi cazzi degli altri. Ok? Detta in francese. Non sono su Facebook perché sono intenzionati ad acquistare del vino e questo sarebbe un altro elemento molto molto differenziante. Silvia nel corso che stiamo facendo nel local lab vi ha già spiegato quali sono tutti i vari processi, i vari step del processo di acquisto di un cliente. Quindi diverso è il discorso se un cliente domanda consapevole, va su internet cercando vino amarone, coprezzo vino amarone, ok? Va su Google cercando questa cosa, questa domanda consapevole, sa già quello che cerca, quindi in questo caso andare a proporgli direttamente un'offerta, una promozione avrebbe anche senso perché questa persona è già intenzionata a fare un acquisto. In questo caso io sono su Facebook che mi sto guardando un po' i fattacci degli altri e mi trovo questa cosa dove mi mi si chiede in poche parole di comprare qualcosa senza sapere chi è questa azienda, perché dovrei comprare senza darmi una motivazione valida, ok? Per effettuare un acquisto. Quindi l'errore più grosso che fanno è proprio quello di puntare subito sulla vendita diretta su un pubblico che non conosce questa azienda. Ok? Questo è l'errore principale che sta facendo. Ora gli stai facendo pubblicità. Sì, in realtà gli sto facendo pubblicità, adesso non vedo chi sei, purtroppo non vedo i nomi, ma avrebbe anche poco senso perché io non sono Elon Musk, non so se avete visto Elon Musk che ha detto usate signal, signal, come cacchio si dice, al posto di Whatsapp. non so se avete visto, ha fatto un tweet di questo tipo e questa applicazione signal, non so come si pronuncia in tre virgolette, ha avuto un boom pauroso, ha crashato anche i server e cose di questo tipo. Quindi non è che perché io gli parlo di questa azienda adesso tutti andrete a comprare il vino perché per comprare questo vino da un'azienda sconosciuta, almeno magari questi sono famosissimi, ma io personalmente non li conosco, dovrei avere una motivazione, ok? Altrimenti è una delle n cantine che ci sono là fuori, centinaia, migliaia di cantine, c'è una delle tante che mi dice compra il mio vino perché ti faccio l'ommaggio, ti faccio lo sconto. Cosa potrebbe fare questa azienda secondo me, secondo me per piuttosto che spendere i soldi su questo tipo di ad? Potrebbe raccontarmi una storia, le storie funzionano sempre, ok? Sul vino cazzo ci sono tantissime cose che questa azienda potrebbe raccontarmi di sé che tanti di tanti di voi tante tante persone in questo gruppo hanno delle attività che possono raccontare delle storie, possono raccontare dei particolari della propria attività che a cui i clienti possono essere interessati, ok? invece di dirmi compra il vino raccontami come fai questo vino raccontami dove sono questi vitigni che creano questo vino fammi vedere non so la storia dei proprietari di questi vitigni di quanto lavorano quanto impegno ci mettono per creare l'amarone o fammi vedere magari un esperto che mi racconta come vengono raccolte le viti dopo quanto le come si dice insomma l'uva ogni quanto quando viene raccolta come viene raccolta come viene fatta a fermentare come viene imbottigliato ok? puoi raccontarmi come abbinare i vini a determinati piatti puoi raccontarmi delle ricette che ne so puoi raccontarmi una marea di cose piuttosto che dirmi compro il mio vino perché ti faccio lo sconto ti faccio l'omaggio ok? perché purtroppo è la cosa più facile da fare andare a lavorare sul prezzo ok? come leva per l'acquisto ma è anche la cosa più pericolosa perché poi vai a scontrarti vai a fare la guerra a ribasso contro i concorrenti attiri solo clienti che magari cercano lo sconto come quelli che usano piattaforme di cui non faccio nome che magari ti usano solo perché hai fatto lo sconto e poi vanno da la prossima volta vanno da un altro che gli fa uno sconto come il tuo o più alto del tuo ok? quindi una cosa su cui potrebbero lavorare piuttosto è i contenuti che avvicinino il cliente il potenziale utente a questa azienda e poi gradualmente lo spingano a effettuare eventualmente l'acquisto un'altra cosa che potrebbe fare che mi viene così adesso mi vengono idee così al volo è anche quella di dire siamo in lockdown tante persone non possono muoversi la gente non può più andare in enoteca al ristorante a bersi un buon vino potresti anche fare delle dirette dei video anzi delle dirette sarebbe ancora meglio dove un esperto di vini stappa una bottiglia di uno dei tuoi vini e lo commenta ok? nella pagina facebook in un gruppo facebook in qualsiasi social che possa avere questa attività e lo commenta spiegando le caratteristiche di questo vino altra cosa che potrebbero fare sempre in questo periodo maledetto di lockdown potrebbe essere quella di di proporre dopo che appunto ho fatto un po' conoscere determinati aspetti della mia della mia azienda della mia cantina potrebbe essere quella di fare una degustazione online cioè non è che mi bevo il vino per finta ma tu compri un set o questa insomma questa box da 6 barra 7 bottiglie adesso ho da capire quante sono effettivamente e fai una degustazione online insieme con il sommelier che a distanza tramite il video assaggia il vino quindi il sommelier dice apriamo l'amarone tutti insieme apriamo l'amarone ci assaggiamo l'amarone in diretta streaming insieme al sommelier che ci racconta tutta la storia di questo vino ok queste sono cose che possono avvicinare a questa azienda e a dare degli stimoli anche a acquistare il vino perché se no se diciamo ah Doriana ecco adesso grazie per aver scritto il nome nel commento altrimenti appunto tu mi stai solo dicendo compra questo vino senza che io sappia chi tu sia chi tu sei chi tu sia e puntando solo sul fattore prezzo che è la cosa più sbagliata ok allora questa questa diciamo è un'indicazione di massima poi per quel che riguarda il copy quindi il testo che è stato scritto anche qui io non sono un esperto copywriter quindi si posso dirvi quello che è un po' quelle che sono le mie sensazioni già dicendomi questo wine friend promo che cacchio vuol dire già da per scontato che la gente capisca cosa vuol dire wine friend e tante persone fanno fatica a capire l'italiano quindi figuriamoci a capire wine friend promo cosa vuol dire quindi già il titolo che è la parte più importante perché la prima cosa che vedo mi scrive qualcosa che può essere potenzialmente incompressibile e già questo è un errore già che inizi con omaggi e sconti già lì è un altro errore perché alla fine vai sempre su quel terreno maledetto degli sconti che è solo che è un rischio e poi vabbè per chi acquista almeno 6 cartoni da 6 bottiglie cazzo 6 cartoni da 6 bottiglie sono 36 bottiglie mi pare che come prima vendita cioè mi chiedi un investimento non da poco non ti conosco non so neanche se sia buono o meno il tuo vino e mi chiedi già di spendere adesso non so quanti soldi ma insomma penso che qualche centello ne esca quindi mi chiedi già di darti tutti questi soldi insomma mi sembra abbastanza ottimista vabbè qui mettono il visita al nostro shop online e il link al loro sito hanno fatto bene almeno ecco hanno fatto bene a mettere le spese di spedizione gratuite questa è una cosa che io consiglio sempre chiaramente vanno fatti dei ragionamenti a livelli di pricing però diciamo che mettere le spese di spedizione gratuite io l'ho testato anche nei vari commerce che ho lanciato nel corso del tempo ha un effetto molto molto positivo sulle conversioni quindi sugli acquisti perché è un problema in meno per il cliente perché spesso non sono chiare le spese di spedizione quindi il cliente nella sua testa deve anche pensare a chissà quanto spenderò adesso per l'espedizione magari sono 10 magari sono 15 magari sono 20 euro se so già che l'espedizione è gratuita mi levo un pensiero dalla testa ok allora vorrei anche vedere i vostri commenti al post che avevo messo così commentiamo anche quelli ok allora questo è il post che avevo messo nel gruppo relativo a questa questa campagna e ci sono stati parecchi commenti quindi vorrei andare ad analizzare ogni commento che avete fatto perché comunque tanti di voi hanno dato degli spunti interessanti in merito a questa campagna allora fare una foto migliore Elisa poi scrive ha purato il fatto anzi scusate che ingrandisco così magari vedete anche di più ha purato il fatto che in origine la foto è a colori a me manca la descrizione del vino bianco rosso rosè frizzante fermo che era un mia a cosa puoi abbinarlo mancano le emozioni dell'esperienza di bere quel vino sì l'indicazione di Elisa è giustissima secondo me è già il fatto di mettere di mettere sette vini è un casino perché io piuttosto piuttosto scusate che metto tutte e due le cose vediamo se riesco così teniamo mi tolgo io grazie 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 nell'ottica di nella parte finale diciamo di questa campagna in cui cerco di portare a termine la vendita se faccio la vendita del box da 6-7 bottiglie allora in quel caso sicuramente potevo anche essere più chiaro sul prezzo anche specificare direttamente il prezzo oppure se voglio spingere i clienti a visitare il sito per vedere qual è il prezzo magari indicare effettivamente qual è la la promozione lo sconto la percentuale di sconto insomma che che ci potrebbe essere ok poi Alice dà una marea di spunti allora la foto non è di qualità non c'è il prezzo non si capisce lo sconto non c'è scritto chi sono non c'è scadenza della promo non c'è un modo per contattarli velocemente vediamo se c'era poi qualcos'altro ok allora la foto non è di qualità ma in realtà la foto è anche fatta decentemente ho visto cose molto molto peggiori il fatto è che non si legge la mazza più che altro considerando che la maggior parte delle persone sono da mobile io ho dovuto ingrandire ho lo schermo gigante ho dovuto ingrandire al massimo per poter leggere un nome uno dei nomi dei vini insomma già questo è un grosso problema quindi sicuramente sulla grafica si può far meglio ho visto di peggio ma diciamo che la foto dovrebbe anche essere utile al cliente per dargli subito le informazioni che cerca se non faccio vedere qual è il vino cazzarola già qui è un bel problema non è che compro una box di vini così a caso ok non c'è il prezzo non si capisce lo sconto questa è la cosa che diceva anche Erika non c'è scritto chi sono esatto ma questo è appunto come dicevo prima una cosa che va fatta ben prima oppure la cosa della vendita si fa dopo non c'è una scadenza della promo esatto è sempre è sempre utile ragionare sulla su quello che consiglia il buono Cialdini quindi scarsità una delle leve di marketing è quella di puntare sulla sulla scarsità quindi e sull'urgenza quindi potrebbe esserci l'indicazione di una di una data di scadenza di questa promo in modo da spingere le persone ad approfittarne non c'è modo per contattarli velocemente anche questo è una giusta indicazione considerate che non tutti sono abituati a fare acquisti online ok quindi magari potrebbe esserci una persona interessata a questa promozione però magari non si fida purtroppo c'è ancora chi non si fida a comprare online e chi ha paura di mettere i dati da carta di credito ricordiamoci che sia uno dei paesi più arretrati digitalmente in tutta Europa quindi bisogna pensare anche a chi non non si fida ad acquistare online o non è pratico andrebbe inserito magari un numero di telefono non so se vedete mai su sulle campagne in tv di di tanti prodotti che possono facilmente essere acquistati online la prima cosa che mettono è il numero di telefono numero di telefono un numero verde o qualcosa di questo tipo quindi è importante dare più canali di contatto possibili può essere il numero di telefono può essere una chat un whatsapp chiaramente devono essere monitorati e si deve rispondere velocemente non si può rispondere dopo due giorni tre giorni perché bisogna rispondere più velocemente possibile perché in quel momento che il cliente è caldo è pronto magari per comprare non ci sono recensioni di clienti anche questa è una cosa importante non ci sono le recensioni sono io sono di parte perché forse qualcuno lo sa una delle mie start up era recensioni ok andate a vedervi recensioni ok punto it ho sempre battuto e continuo a battere sul fattore recensioni è un elemento che è sempre più importante le testimonianze di clienti recensioni di clienti sono fondamentali nel nel processo di scelta di decisione di un acquisto da parte dei clienti quindi un modo di fare delle azze su facebook dopo che dopo che ho dato impasto ai clienti ai potenziali clienti i contenuti è anche quello di far vedere le testimonianze di clienti che sono già rivolti alla mia azienda alla mia attività in modo da ridurre più possibile il rischio per il cliente è uno degli elementi che aiuta a avvicinare il cliente all'acquisto ok poi Doriana scrive vista così un po' di confusione la foto a me non piace la descrizione della promo non è chiara ok si appunto queste sono cose che abbiamo visto anche prima una cosa importante che dice Doriana e la descrizione della promo non è chiara vi consiglio sempre di scrivere come se parlaste a dei bambini purtroppo sui social ma anche in generale è pieno di persone che non riescono a capire quello che viene scritto cercate di fare delle frasi semplici dirette molto chiare in modo che le persone non debbano ragionare più di tanto ok non solo perché tante persone purtroppo non veramente non riescono a capire quello che leggono ma anche perché sui social andiamo via come dei caccia quindi adesso stiamo analizzando lentamente e dettagliatamente questa ad ma chiaramente un potenziale cliente non sta lì un minuto e mezzo a guardare la tua campagna passa in mezzo tra uno scroll e l'altro quindi devo cercare di attirarlo in pochi secondi se faccio delle foto complesse dei contenuti complessi rischio che il pollicione vada in giù verso le altre cose in cui il cliente è interessato perché ricordo che le persone non sono sui social per comprare principalmente su facebook o su instagram non ci vanno per comprare ci vanno per farsi i cazzi degli altri quindi queste sono le campagne sono tra virgolette delle interruzioni ok poi ecco Marco Giudizi è quello che ha imbroccato completamente quello che intendevo dire è quello che è l'errore principale di questa ad questa potrebbe andare bene a chi già conosce il brand qui manca il vabbè qua si è tagliato un po' il testo chi sono perché devo comprare da loro la loro unicità una promozione per noi clienti urgenza e scarsità esatto prima di tutto io devo far conoscere il il mio brand far conoscere la storia e dare delle motivazioni ai miei clienti per distinguermi per capire che sono diverso dagli altri concorrenti dalle altre attività altrimenti sono una delle tante aziende una delle tante cantine in questo caso che che mi propongono il solito sconto promozione compra qui eccetera eccetera ok il buon Michele Baghin scrive appunto sette bottiglie in effetti nella nell'ad in questa campagna hanno scritto eh omaggi e sconti perché acquista almeno sei cartoni da sei bottiglie e poi nella foto ci sono sette bottiglie sì questo effettivamente è un po' paradossale quindi bisogna stare tanti anche a queste piccole a questi piccoli errori qua Michele stessa cosa sono sette bottiglie invece di sei poi allora se avete intanto domande o o altre altri spunti che vi vengono commentate pure anche se vedete questa questo video non in diretta ma in replica anche nelle ore o giorni successivi che poi insomma rispondo direttamente nei commenti allora Elena la call to action scopri di più l'avrei impostata come acquista ora sparando il visitatore direttamente alla pagina dello shop online per il resto condivido tutte le osservazioni precedenti dei colleghi pessima foto descrizione anonima poco accattivante il post nel suo insieme soprattutto considerato che è uno sponsorizzato esatto sì allora tornando sempre al fatto che questa ad non va bene fatta su un pubblico freddo quindi è tutta l'ad che va ripensata quindi in questo caso non è il problema del scopri di più o dell'acquista ora no? in questo caso specifico però se siamo nella fase in cui il cliente già mi conosce gli ho già fatto l'ho già nutrito tra virgolette con dei contenuti gli ho già messo fatto venire l'acquolina diciamo in bocca per comprare la mia fantastica box di vini allora in quel caso se la mia ad dopo aver fatto la giusta strategia ha lo scopo di fargli fare l'acquisto allora in questo caso sì è giusto quello che dice Elena quindi piuttosto come call to action la call to action è il questo bottone che c'è qui sotto aspetta che devo condividere lo schermo qui ecco allora questo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. McDonald's, ok, l'ho già fatto, lo fanno anche altre persone, insomma, è un classico. McDonald's fa panini di qualità? Assolutamente no. Cioè, assolutamente no. Non mi risulta, insomma, non mi sembra che siano famosi per la qualità dei panini. Eppure è il più grande, il più, il ristorante più grande, la catena di ristoranti più grande al mondo, no? Quindi non è che la qualità sia sempre un sinonimo di vendo di più, ok? Ok. Poi è anche vero che la qualità è, appunto, come dicevo prima, soggettiva. La qualità, la percezione della qualità viene spesso creata grazie, per esempio, al packaging. Se io bevo una bevanda in una bottiglia di vetro, ho la percezione che la qualità sia migliore rispetto che se la bevo in una bottiglia di plastica, ok? Però il prodotto è sempre lo stesso. Se io, se mi metti davanti, che ne so, adesso non mi ricordo con quale azienda era, ma hanno fatto un esperimento con dei sommelier, con dei sommelier dove mettevano, mi pare forse dei sommelier o qualcosa del genere, dove mettevano, appunto, vini importanti, di qualità, come si dice, e i vari vini di non qualità, magari quelli che trovate a un euro e mezzo, ok? Quindi mettevano i vini nei bicchieri senza specificare che tipo di vino fosse e tantissimi di questi sommelier super mega decorati prenderono delle enormi cantonate, ok? Quindi la qualità spesso è soggettiva e non dipende effettivamente dal prodotto, dal servizio in sé. E poi, diciamo che, tra virgolette, la qualità, quindi la bontà, tra virgolette, del prodotto è quello che si aspetta di base il cliente, quindi andare a parlare di qualità adesso ha poco senso, soprattutto se parliamo di vini, cioè siamo il secondo o terzo paese al mondo produttore di vini, che mi viene a parlare di qualità, non è un elemento distintivo rispetto alla concorrenza. Cosa fa? Bisogna anche pensare sempre a quello che fa il competitor. Ci sono competitor che dicono, ragionando al contrario, ci sono competitor che dicono che il mio vino non è di qualità? No, quindi non è un elemento distintivo rispetto alla concorrenza, ok? Ed è il minimo che si aspetti il cliente, quindi andare a parlare di qualità nel 2020 non ha assolutamente senso, anche perché ormai è quella parola chiave che il nostro cervello chiude in automatico, insieme a siamo leader, questo è un classico, no? Siamo leader di settore. Che cazzarola vuol dire siamo leader di settore? Ormai chiunque dice sono leader di settore, qual è la prova che tu sei leader di settore? Perché se te lo vai a dire da solo, vuol dire che sei un po' uno sfigato che ha bisogno di dirsi sono il più bravo di tutti. Il leader di settore deve essere un amico a dirmi piuttosto quell'azienda è leader di settore. Allora detto da un altro ha senso, ma se sono io a dirmelo, veramente sa da sfigato, è controproducente. Ok, poi. Scusate un attimo. Ok, allora. Sponsorizzano la promo, ma nulla riporta a loro, non stanno facendo pubblicità a se stessi, ma solo alla promozione. Non ci mettono la faccia, almeno questa è la mia impressione a prima vista. E la scritta Wine Friend che è il nome della promo risalta più del loro logo. Questo è vero Giulia, non c'è alcun riferimento all'azienda, ma solo alla promozione, sì. Esatto, questo è assolutamente vero. Non ci mettono la faccia, questa è un'altra cosa importante. Io sono assolutamente a favore di chi ci mette la faccia, come faccio io in questo gruppo, e sono convinto che uno degli elementi più, come dire, non mi viene il termine, diciamo che uno degli elementi che crea più reazione verso i potenziali clienti, che crea più empatia, ecco, che crea empatia con voice, è quello di metterci la faccia. Perché alle persone piace avere a che fare con altre persone, anche se ci sono tantissime aziende enormi che negli ultimi anni hanno iniziato a far mettere la faccia ai propri dipendenti, ai propri collaboratori. Quindi avete presente la banca, no, quando vi scrive, vi manda quei messaggi, quelle notifiche, quegli aggiornamenti, quelle promozioni, che non so voi, ma a me si spegne, cioè io quelle mail lì le cancello direttamente, perché sono quelle mail impersonali che non trasmettono assolutamente nulla, ok? Ci sono tantissime aziende che hanno iniziato a usare anche un tono molto più personale e diretto, direttamente coi propri clienti, quindi scrivendo anche banalmente il nome e cognome di chi manda questa mail, cosa che fin adesso nessuno fa, perché si manda la solita mail gentile cliente, queste forme oscene di cortese cliente, spettabile cliente, queste robe anni 90, trash e tristissime, quando si potrebbe tranquillamente avere un rapporto diretto con i propri clienti e usare una comunicazione come se parlassi ad un amico, no? Questa è una cosa che crea empatia e crea più legame, più relazione col cliente, quindi come dicevo prima, questa cantina potrebbe metterci la faccia, potrebbe fare dei video, come dice Giulia, metterci la faccia, fare dei video dove fanno vedere loro che con le manine tagliano l'uva, che fanno, fammi vedere come fa il vino, fammi vedere l'imbottigliamento, fammi delle degustazioni online, insomma, si può inventare di tutto, ma è importante metterci la faccia e non nascondersi, tra virgolette, solo dietro a un brand, ok? Questo per me è una leva molto importante che può fare la differenza nei confronti dei clienti. Poi, Alessandra, scrivere esattamente il prezzo totale e scrivere quali omaggi, quanto sconto senza scrivere nulla di loro? Quindi io da cliente, se non li conosco solo per una promo, non li comprerei. Sì, esatto, queste sono un po' le cose che abbiamo detto anche prima. Poi, io non capisco, Simona, io non capisco la promo su cosa è l'omaggio, lo sconto e è su un'altra promo. Sì, come dicevo anche prima qualcun altro, effettivamente non è ben chiara questa promozione, quindi è sempre meglio essere ben diretti, specifici, fare le cose più semplici possibili, non incasinate la testa delle persone con un miliardo di promozioni e possibili varianti. Fate le cose semplici e più dirette possibili. Emily, l'errore per me più lampante è attirare il cliente con lo sconto. Il cliente deve venire da me, prima di tutto per la qualità del mio prodotto e il mio servizio, poi per lo sconto. Sì, attirare il cliente con lo sconto, come dicevamo appunto anche all'inizio, è sicuramente un errore, perché appunto purtroppo è un errore che fanno in tanti, ma perché è la cosa più facile da fare, cercare di attirare le persone con lo sconto è una cosa che si fa tra due nanosecondi. Invece cercargli di far capire, lavorare sul brand, sugli elementi differenzianti rispetto alla concorrenza, sul proprio posizionamento, chiaramente è più difficile perché serve tempo, serve impegno, però è quello che sul medio-lungo termine paga assolutamente. Eli scrive, chi sono? Che tipo di vino è? Ok, cose che abbiamo visto. Giacomo, non parlano mai del cliente, non si rivolgono a nessuno in particolare. Esempio, ah, i miei vini frizzanti, stai cercando il regalo giusto per un amante del buon vino, non risolvono nessun problema del cliente. Questo è corretto, è assolutamente corretto. Qui appunto, torno sempre al discorso che la gente non è su Facebook per comprare, ma è su Facebook per altri motivi, quindi già cercare di vendere al primo incontro è un errore. Ok, quindi non andrei mai a dare immediatamente, a cercare di vendere anche forse il regalo per un amante del buon vino, non lo farei al primo incontro col potenziale cliente, ovviamente lo farei appunto, come abbiamo già detto, dopo alcuni step. Però come dice giustamente Giacomo, è giusto cercare di rivolgersi ad un target magari particolare, ok? Si possono fare delle, si chiamano delle personas, no? Dovreste cercare di pensare a chi è il vostro, a costruire il vostro target ideale, quindi cercare di immaginare nel più dettagliatamente possibile qual è il vostro target ideale, anche per cluster, anche per gruppi, no? Quindi potrebbe essere, chi è il target che io voglio colpire con il mio, la promozione dell'amarone ad esempio, no? Può essere, non so, uomo da 40-60 anni, che vive in determinate zone, che ha un determinato stile di vita, un determinato reddito, che frequenta determinate persone, ok? Quindi andare a definire più dettagliatamente possibile qual è il mio obiettivo target. Più parli alla massa, ok? Più cerchi di aprire a chiunque, chiunque può comprare il mio prodotto. Questa è la cosa più sbagliata che si possa fare, perché parlando a tutti, non si parla assolutamente a nessuno. Quindi è importante andare a definire il proprio target. Anche per chi ha un'attività locale, questi magari vendono in tutta Italia, però anche per chi è un parrucchiere, come per esempio Giacomo, o un negozio di abiliamento che magari lavora in ambito locale, è importante andare a definire il target. Questo fa parte della strategia, no? Che già Silvia vi ha spiegato nel corso del Local Lab. È importante andare a definire appunto la strategia per poi usare i giusti strumenti, come possono essere le campagne su Facebook. Perché quando ho stabilito la strategia, tra cui il mio target, allora so come comunicare, che strumenti usare, che tipo di linguaggio, eccetera, eccetera, ok? Ok. Questo era un po' l'analisi di questa campagna, di questa ad che abbiamo visto su Facebook. Se vi piace questo tipo di esercizi, tra virgolette, fatemi sapere che magari ve ne propongo altre, ok? Anche di altri tipi di attività. Se vi vengono in mente altre idee, altri spunti, scrivete nei commenti. Fatemi sapere che qua siamo sempre attivi e disponibili a ascoltare anche i vostri suggerimenti, le vostre proposte. Ok? Vi, se vi siete collegati solo adesso, vi ricordo che questa diretta la potete poi, la troverete nella raccolta, insieme alle altre dirette. Collegatevi su questo link, locallab.it slash raccolta trattino video. Lasciate qui la mail e avrete accesso a questa e anche alle altre dirette che abbiamo fatto nel corso di questi mesi. ce ne sono veramente una marea ormai di contenuti gratuiti che potete sfruttare. E ultima cosa, appunto, come dicevo all'inizio, invitate altre attività nel gruppo che più siamo e più più otteniamo valore tutti quanti. Ok? Perché nascono più discussioni, più interazioni, più idee ed è un peccato che tutto questo valore venga, appunto, resti solo tra questi 1400 che siamo adesso. Insomma, potremmo essere molti, molti di più. Quindi, invitate, è facile, bottone invita, cliccate qua sopra da qualche parte, bottone invita verde, invitate altri negozianti in attività e imprese locali. Ok? Bene, buona serata, alla prossima, ciao ragazzi!